Tutti pensiamo di voler raggiungere la libertà. Vogliamo essere liberi dei genitori, dal lavoro, liberi della nostra città, liberi del nostro sistema. Ci illudiamo, ci diciamo che la stiamo cercando. E quando non riusciamo a raggiungerla diamo la colpa a qualcos'altro, in modo da sentirci bene con noi stessi. La verità è che ne abbiamo paura, perché per essere liberi bisogna conoscere se stessi. Ma viviamo in un mondo dove essere se stessi è sempre più difficile. Questo video è dedicato a tutte quelle persone coraggiose che hanno deciso di continuare a cercarlo. Grazie Ok, va bene. Dove cazzo fai poi? Non lo so, che vogliamo fare? D'alta la spiaggia è meglio. Dai, andiamo. Il tetto si spara. Andiamo a vedere l'acqua qua sotto, perché passiamo in mezzo a quegli arberi. Perché il tuffo è l'ado. Bello però. Siero. Vai. Siete? Porca troia, raga. Dai, è basso. Porco Dio. Dai! Dai! Uhuhu! Yeah, man! Porco Dio! Ma si, vaffanculo! Uhuhu! Vai Alex, quant'è? Sopra i piedi. Eh sì, non è poco. Bello, bello, vai, vai, si fa. Finché io vi ho traccionato con le gambe aperte. Eh? Anche io mi sono fatto male. Sul culo aperto. Dai, vai! Uhuhu! 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 Lasciati andare. Oddio. No, è impossibile. Lo devo fare meglio, no? È impossibile. Boh. Eh, ma perché una volta c'era la scaletta. Ma qua, qua. Ma non si vede perché è piccolissima. La prenderò adesso. Tole mani. Ho fatto venti volte. Eh, ma se eri con due mani e non c'è la corrente. Ecco qua. Guarda me, stanno. Occhio, occhio, occhio. Ma se ti tengo io con due mani ce la fai, eh. Eh, mi la cassa. Eh, occhio. Occhio. Non ti sta pungendo dietro. Ah, dietro. Cazzo di matto. Ci schiaffi di mia mamma fanno più male. No, perché stai notando? È immune. È immune, è immune. No, no, brucia. Eccola. La felicità e i ricordi sono veri solamente se condivisi Perché un giorno, quando sarai vecchio Aver lasciato tante piccole parti di te Sparsi per il mondo nelle menti delle persone Sparsi per il mondo nelle persone Sparsi per il mondo nelle persone